Numero 19, Leonardo Roducci! Numero 4, Martini! Il numero 2, Mattia! Il numero 24, Daniele! Il numero 24, Daniele! Il numero 24, Daniele! Il nostro centrocampo! Il numero 30, Rodrigo! Il numero 24, Daniele! 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 Il numero 25, Daniele! Ehi! Il numero 25, Daniele! Il numero 25, Daniele! Viva la stanza! Viva la stanza! In linea numero 18 Noi Se! il numero 17 Marino e domani il numero 7 Cristiano Quella che lavora nell'opera ma che viene da un applauso enorme perché se siamo qui a festeggiare e anche grazie a loro il nostro staff tecnico Marco Landucci Maurizio Traumetta Mario Colcetti Claudio Filippi Simone Polletti Andrea Berlusio Duccio Ferrebravo Stefano Draghi Enrico Maffei Cinque stagioni sull'anno di internazionale undici giufferi non serve di ritardo sempre solo sulle mani per la colpa di atto fino a dopo il mister Massimiliano la nostra guida il nostro capitano il nostro numero tre Giorgio la Coppa Campione d'Italia 2018-2019 al capitano Giorgio Chiamini 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.